Grazie a tutti e a tutti. Ho pensato giorni interi a questo discorso perché sentivo una responsabilità, perché davanti a me ci siete voi che forse state cercando risposte. Quando mi hanno invitata a parlare di balance, equilibrio, non mi sono sentita all'altezza. Forse perché un equilibrio ancora non ce l'ho, perché lo sto ancora cercando. In queste settimane questo pensiero mi balenava costantemente nella testa e non mi mollava. Un equilibrio non ce l'ho. Mi veniva da ridere e mi vergognavo. In realtà sapevo cosa dovevo dirvi. La verità. Quando mi ritrovo a lavorare dieci ore al giorno e non ho nemmeno la forza di cucinarmi, un equilibrio non ce l'ho. Quando vorrei mollare tutto e fare altro, quando ancora non so amare e farmi amare, quando mi guardo allo specchio e ancora non mi piaccio, quando vorrei scappare, un equilibrio non ce l'ho. Come avrei potuto io parlare di equilibrio? Sapevo in realtà cosa dovevo dirvi. La verità. E la verità è che non sempre avete risposte, non sempre saprete dove state andando. E tante volte vi sentirete soli. Non sono qui oggi a raccontare una storia di successo, di un equilibrio trovato e mai lasciato, perché questo non è possibile. Dominarsi, mantenere la calma, rimanere padroni di sé. Quante volte questo non è successo? È normale. E va bene così. Pensiamo spesso che i percorsi che facciamo abbiano la loro fine. Dobbiamo perseguire per raggiungere i nostri obiettivi. Cerchiamo definizioni, categorie, cerchiamo di spiegarci. E spesso non ce la facciamo. Immaginiamo la vita piuttosto come un cerchio, in cui andiamo avanti e torniamo indietro, in cui ci perdiamo, in cui ci ritroviamo. E ruotiamo intorno a noi come fanno le stelle e la terra. La vita è piuttosto un cerchio e l'equilibrio è un eterno palleggiamento fra movimento e stabilità. Oggi siamo schiacciati da storie di successo, di chi ce l'ha fatta. Io sono qui per raccontarvi l'opposto, per parlare a chi non ce la fa, per dirvi che è normale non sentirsi all'altezza. Oggi sono qui per vedermi umana e per spronare voi stessi a fare lo stesso con voi e con gli altri, perché sarete più leggeri, più liberi e sarà tutto più vero, più semplice, più felice. Forse ogni tanto possiamo arrenderci a queste non risposte, a non sapere cosa fare o al nulla. Possiamo affidarci a quello che verrà e che sarà, abbassando la pressione e la responsabilità che sentiamo su di noi, si apre davanti a noi un orizzonte di possibilità in cui respiriamo leggeri. Non abbiate paura di non avere risposte, di deporre le armi, di non sapere chi siete, di avere paura. Oggi sono qui per parlare di ciò che è normale, terreno, reale, al di fuori di quello che ci fanno credere. Oggi sono qui per essere onesta. Avevo 13 anni quando ho scelto di essere una psicologa, perché stavo male e volevo capire perché. Ma soprattutto volevo dire a quella persona davanti a me, non sei sola. Soprattutto volevo stare vicino agli altri e dargli comprensione, ascolto, quello che io non mi ero data, quello che io non avevo avuto. Quando lavoro con i miei pazienti e le loro splendide fragilità, vengono fuori le loro storie, la loro solitudine. Mi sono fatta le spalle grosse, ma ancora oggi, quando torno a casa, mi faccio piccola piccola e cerco una coperta che mi copra tutta. Da quando sono nata, mi sono sentita strana, diversa, inadeguata per una società che ti vuole in un certo modo. Quando sei un bambino ti devi divertire. Quando sei alle medie devi avere una vita sociale. Quando sei al liceo devi essere cool e quando sei all'università devi essere bravo. Quando lavori devi essere performante. Il venerdì e il sabato devi uscire, devi bere. E così via. Tutto questo non fa che costruire le nostre prigioni. Non cadete nei tranelli della società e disattendete quello che ci si aspetta da voi. Nella vita mantenere il proprio equilibrio è difficile. Vi metteranno sotto pressione, vi allontaneranno dalla vostra verità. Non c'è colpa e fa parte del gioco. La complessità di quello che abbiamo davanti non si può mai ridurre a degli standard da raggiungere. Io ancora oggi non so chi sono. Eppure a voi potrebbe sembrare che di cose ne ho fatte. Laura Dedilectis, psicologa clinica, creatrice di Donne per strada, amministratrice delegata di Viola Volcom. Tutto questo non significa niente. E non parla di me. Non sono i risultati che raggiungete, che vi definiscono, ma quello che c'è dietro, l'amore che ci mettete. Voi stessi. Noi non soffriamo per quello che siamo. Noi soffriamo per quello che non siamo. E per quello che pensiamo che dovremmo essere. Quando non ci sentiamo amati per quello che siamo, pensiamo di non meritare l'amore. E pensiamo di dovercelo conquistare. Di dover cambiare noi stessi. diventando quello che gli altri vorrebbero che fossimo. Oppure quello che pensiamo che gli altri vorrebbero che fossero. E così via. Non c'è colpa. Siamo tutti vittime della stessa mancanza. Ho provato tante volte a cambiare me stessa. E per fortuna non ce l'ho fatta. Perché quello che siamo ritorna sempre. Perché quello che siamo si fa necessario e urgente quando tradiamo noi stessi. Questa è l'unica cosa da fare per trovare un equilibrio che non sia costante ma che sia vero. Che sia il vostro. Che parli di voi, di come vedete il mondo. Per ognuno diverso. Il vostro modo di esprimervi e di essere. Non tradite voi stessi. E se lo fate non vi sentite in colpa. Ma tornate a casa accogliendovi e ricominciando. Rispettate voi stessi con il rischio di deludere gli altri. Con il rischio di non piacere. Con il rischio di fare male. All'inizio vi sentirete in colpa. Ma poi capirete che era l'unica opzione possibile per continuare a vivere. E anche chi ama, chi vi ama, lo capirà. Tendete sempre alla verità. Non vi fermate in questa ricerca. Mettete in discussione tutto. Perdendovi completamente. Lascerete andare quello che non siete o quello che non siete più o quello che non siete mai stati. E si pulirà il cielo della vostra vita. Respirate, ridete, ballate. Disperatevi, implorate. Sbagliate. Accettatevi per quello che siete nelle vostre complessità, nelle vostre incoerenze, nel vostro essere unici e normali allo stesso tempo. Amatevi in tutto quello che siete senza dover nascondere nemmeno un briciolo di voi stessi. Andando fieri e a testa alta, amandovi come nessuno vi ha mai amato prima, dandovi quello che ancora non avete avuto e che meritate. Abbassate le armi, chiedete aiuto, siate umani. Allora planerete dall'alto sulle vostre vite e la paura non vi farà più paura perché la conoscerete e i giorni di tempesta, i giorni di sole li affronterete allo stesso modo. La più grande forza è sentire la propria fragilità, le proprie paure, per arrendersi a qualcosa di più semplice ed onesto noi stessi. Lasciate entrare nella vostra vita le persone. Non abbiate paura. Non ci si può mai proteggere abbastanza e se si pensa solo a proteggersi si perde tutto l'amore. Fatevi amare come potete e amate come riuscite, come siete. Non c'è cosa più bella di avere persone accanto. La paura di non essere amati non ci fa vedere l'amore che già abbiamo intorno. Fidatevi e affidatevi. All'inizio questo discorso lo stavo scrivendo da sola poi tante persone ci sono entrate dentro e ho sentito questa come la cosa più bella che esiste. Non essere soli. Non siamo soli. Anche se lo pensiamo. Anche se siamo disperati. condividiamo quello che siamo in qualunque forma. Ci sarà sempre qualcuno che ci ama per quello che siamo. In questi giorni ero pronta ad andarmene ma sono rimasta. L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà se ce n'è uno è quello che è già qui. L'inferno che abitiamo tutti i giorni che formiamo stando insieme. due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti. Accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di arrivare a non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esigio un'attenzione e un apprendimento continui. Trovare in mezzo all'inferno chi e che cosa non lo è e dargli spazio e farlo durare. Italo Calvino Grazie Grazie